Fabio Tuia che non ci sta ad essere accusato di affermare cose non veritiere è ben lungi dal ravedersi come auspicato durante la nostra trasmissione ring dal presidente del club sportivo Trieste pugilato Roberto Battimelli rincara la dose ed in primo luogo ricorda come grazie ai suoi successi sportivi la palestra abbia ricavato visibilità e aumentato la platea dei suoi frequentatori tanti giovani cambiscono a seguire le orme del campione triestino e si allenavano con lui o comunque nei medesimi spazi da lui utilizzati. Non so perché si è tanto arrabbiato Battimelli è vero sono venuto solo due volte a questi clandestini ma perché sono venuto solo due volte perché ho fatto un casino che è arrivato fino addirittura dal sindaco non sono andato a lamentarsi a Cosolini di quello che è successo so in verità che nella palestra adiacente, che è la palestra pesistica e là lavorano praticamente solo con il business di questi ragazzi che vengono a fare attività. E all'affermazione di Battimelli secondo la quale anche i figli di Tuia che frequentano la palestra usufruendo di un corso gratuito di avvicinamento al pugilato riservati ai ragazzini dai 5 ai 13 anni il pugile risponde in maniera secca. Sì è vero i miei bambini sono iscritti ma non si sono mai andati nella palestra perché mio figlio fa calcio 4 volte a settimana, mia figlia fa tuffi 3 volte a settimana e gli iscritti perché mi hanno chiesto dai mi puoi iscrivere anche tu ai bambini così prendiamo il contributo. Beh sono ospite ma nessun problema. Per me questo sono un grande grossissimo business qualcuno però si ribella, non mi va proprio spero che i triestini si sveglino. L'auspicio a questo punto è che la questione possa chiudersi qui perché in particolare le palestre dovrebbero essere luoghi immuni da polemiche soprattutto se coinvolgenti i più giovani i quali altro non chiedono che di fare sport e divertirsi. Grazie a tutti.